Un saluto dal Tg della mobilità, da oggi sulla ferrovia Romalido sono in servizio 4 treni sulla tratta attiva, il numero dei convogli arriverà poi a 7 entro la fine del mese. Il cronoprogramma prevede 4 treni da oggi, 6 treni dal 17 gennaio e un settimo entro la fine di questo mese. Da oggi in vigore anche il nuovo orario invernale, il servizio della ferrovia in attesa di eventuali novità dovute all'emissione in servizio degli antitreni è attivo tra Eur Magliana e il Capolinea Colombo. Tra Eur Magliana e Piramide e Porta San Paolo i pendolari possono utilizzare la metro B che scambia con la Romalido proprio nella stazione di Eur Magliana. Al sabato e nei giorni festivi la ferrovia sarà attiva sull'intera tratta tra Piramide, Porta San Paolo e Colombo. E tutto appuntamento alla prossima edizione.